Ha preso il via ieri il nuovo anno scolastico a Licata, al suono della prima campanella tutti in classe per l'inizio delle lezioni, anche se l'orario in molti istituti e scuole non è stato del tutto definito. Il primo giorno all'insegna dei saluti e dell'accoglienza degli alunni da parte di docenti e insegnanti. L'anno scolastico al liceo Vincenzo Linares si apre col nuovo dirigente scolastico, si tratta della professoressa Rosetta Greco, che nel primo giorno di lezioni ha voluto rivolgere un caldo augurio di buon anno scolastico agli studenti, alle famiglie, ai docenti, personale ATA e collaboratori scolastici. Con una circolare il nuovo dirigente scolastico si dice pronta a cogliere una sfida vincente e non ha esitato a porgere un ringraziamento al dirigente scolastico Santino Lopresti che l'ha preceduta, con competenze e professionalità alla guida dell'istituzione scolastica. Si è proceduto all'assegnazione delle classi a indirizzo classico quinta A, terza A, quarta B e quinta B, che sono state dislocate al plesso Bugiades. Il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Giacomo Leopardi, il professor Maurizio Buccoleri, nel suo messaggio di proficuo e sereno anno scolastico, cita frasi di Seneca, Aristofane ed Albert Hubbard. La prima è Insegnando si impara, di Seneca, dalle lettere all'ucilio. La seconda citazione è Non puoi insegnare al granchio a camminare dritto, di Aristofane. La terza, quando i genitori fanno troppo per i loro figli, i figli non faranno abbastanza per se stessi. Secondo il dirigente scolastico le tre citazioni suggeriscono le sfumature imprescindibili dell'insegnamento, i limiti umani che caratterizzano le persone e il ruolo dei genitori. Il decreto sul calendario scolastico prevede 205 giorni di lezioni. Per quanto riguarda le vacanze calendarizzate, sarà un anno favorevole agli studenti. Prevista una pausa ufficiale di due giorni, 16 e 17 febbraio, per le vacanze di carnevale, oltre alla festa della Regione, che cade il 15 maggio di ogni anno. Le vacanze di Natale inizieranno il 21 dicembre e si rientrerà in classe il mercoledì 7 gennaio, mentre la pausa per le vacanze di Pasqua è prevista dal 2 al 7 aprile, con rientro in classe mercoledì 8. La scuola terminerà il 13 giugno, mentre nella scuola dell'infanzia le attività didattiche si concluderanno il 30 giugno. A Licata il nuovo anno scolastico si apre anche all'insegna di lavori di edilizia scolastica, cantieri aperti a breve all'asilo nido comunale Sant'Angelo e San Giuseppe, che saranno interessati da lavori di adeguamento e ristrutturazione.